quando ripassare quando è il momento di fare il salto dallo studio da quello che stiamo imparando a il ripasso beh la risposta è molto prima di quello che credi il ripasso normalmente viene inteso come quella cosa che si fa dopo qualche settimana che abbiamo studiato per rinfrescare le informazioni e recuperare le informazioni che abbiamo perso errore il ripasso invece deve iniziare subito non appena abbiamo finito lo studio già a qualche ora di distanza da quando abbiamo imparato qualche cosa dobbiamo ripassarlo bisogna invertire il processo l'idea non è quella di recuperare le informazioni che abbiamo perso ma è quello di non perderle in primo luogo e quindi il ripasso inizia immediatamente cominciamo subito a mettere il ripasso all'interno della nostra scaletta e a portarlo avanti man mano che lo studio procede così che quando arriveremo alla verifica all'esame a quello che è avremo sempre le informazioni fresche pronte e saremo preparati il potere supremo del il quiz il quiz domanda e risposta è uno degli strumenti più potenti versatili e utili nel mondo dello studio perché beh perché fare una domanda andare a recuperare la risposta all'interno della nostra mente è un metodo molto più efficace di consolidare quello che abbiamo imparato rispetto alla semplice rilettura rileggere il libro rileggere gli appunti riassunto quello che è perché ci costringe a fare uno sforzo è proprio questo sforzo che è alla base di quel concetto che viene chiamato retrieval effect ovvero l'effetto del recupero ed è uno dei modi migliori per ricordarsi a lungo termine le informazioni e allo stesso tempo ci prepariamo anche per poi la verifica all'interrogazione l'esame quello che è perché usiamo già il metodo dell'interrogazione con noi stessi insomma per affilare la nostra preparazione quindi domanda e risposta quiz sempre comunque tenere traccia del nostro progresso non basta pianificare non basta strutturare un piano di studio dobbiamo anche continuamente aggiornarlo e verificare a che punto siamo segnandoci tutte le nostre piccole vittorie e anche eventualmente le piccole sconfitte perché questo è per due motivi principali il primo motivo semplicemente organizzativo il fatto di avere chiara la situazione sapere che cosa siamo riusciti ad ottenere se siamo riusciti a rispettare il nostro piano oppure no ci aiuta per andare avanti con la pianificazione e continuare ad essere efficaci nel raggiungere il nostro obiettivo ma il secondo motivo forse ancora più importante ed è quello psicologico perché tenere traccia del progresso ci dà un senso di continuità ci dà quell'abbrivio di continuare a darci dentro quindi non basta come ho detto prima segnarsi cosa dobbiamo fare dobbiamo anche segnarci che cosa abbiamo fatto e cercare di essere contenti di trarre soddisfazione da ogni piccolo passo nel nostro piano che abbiamo portato a termine ma voi ve lo ricordate quando alle scuole superiori al liceo magari siete ancora alle scuole superiori c'era l'interrogazione c'era l'ora di interrogazione e voi non eravate quelli interrogati io me lo ricordo era il momento più bello di tutti perché per 30 40 minuti o addirittura tutta l'ora non c'era un cacchio di niente da fare e uno se ne stava lì così a guardare gli altri poverini torturati dall'insegnante ecco quel momento lì è un momento sprecato buttato perché perché in realtà il momento in cui assorbiamo le domande che verranno poste poi a noi anche in realtà in un futuro compito interrogazione esame è un momento da non perdere e quindi ecco che quando siamo a scuola oppure davanti a un esame o a lezione e il professore fa delle domande chiede a qualcuno qualche cosa oppure segnala un tema importante dobbiamo assolutamente segnarcelo perché nove volte su dieci quel tema ritornerà nella nostra interrogazione nel nostro esame nel nostro compito in classe in qualunque scadenza quindi segnatevi le domande e anticipate quello che sarà poi il vero momento della verifica studiare è selezionare individuare scremare bisogna effettuare delle scelte quando si studia perché non si può pensare non si può partire dal presupposto che sia tutto ugualmente importante sia tutto fondamentale invece dobbiamo riuscire a capire nel testo quello che stiamo leggendo quello che stiamo studiando nei nostri appunti anche o quello che appunto dice il professore che cosa è centrale che cosa devo assolutamente segnarmi per assorbirlo che cosa invece posso dare per scontato perché magari me lo ricordo da esami precedenti o che cosa invece posso semplicemente relegare al mio ragionamento ci sono tutta una serie di informazioni quando si studia qualche cosa che non serve imparare ma basta comprendere perché ci si arriva tramite ragionamento in maniera semplice quindi sprecare tempo ad imparare cose che dovremmo dare per scontate dovremmo scartare è uno dei difetti principali di chi non sa studiare seleziona individua screma decidi se dovessi usare un termine una parola un sostantivo per descrivere la caratteristica più importante dello studente che vuole migliorarsi che vuole diventare migliore nel metodo di studio nel proprio voto nella propria situazione in generale sarebbe costanza costanza perché lo studio è qualche cosa che va portato avanti per molto tempo e noi siamo seppelliti di metodologie proposte cose che ci incoraggiano ci spingono a studiare in fretta studiare velocemente a cercare la scorciatoria la soluzione facile eccetera e invece costanza tutti i giorni mettersi lì cercare di dare il meglio cercare di sfruttare al meglio le proprie capacità di migliorare le proprie tecniche costanza per non finire a cominciare un percorso e poi crollare a metà costanza 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 un paio di settimane fa ho fatto una live veramente molto interessante a mio modo di vedere sul rapporto che c'è tra il mondo del corpo del fitness dello sport e il mondo dello studio dell'apprendimento mostrando come ci fossero molte più somiglianze di quello che uno potrebbe supporre inizialmente anche molte più connessioni tra i due mondi tra i due aspetti e allora oggi vi voglio consigliare brevemente insomma di fare esercizio fisico di non sottovalutarlo di rompere quello stereotipo che vuole l'intellettuale lo studioso come un topo da biblioteca che non esce non fa mai sport non si diverte eccetera rompere questa cosa e invece allenarsi un pochettino prendersi cura del proprio corpo perché questo porta anche ad avere migliori livelli di energia una migliore capacità di rimanere concentrati a tutta una serie di effetti positivi quindi fatemi sapere voi se fate anche sport mentre studiate e non rinunciate mai al vostro allenamento per stare sui libri ciao